Berlino non è convinta della necessità di aumentare il suo bilancio militare al 2% del PIL, come chiesto dalla Nato e come vuole la nuova amministrazione americana. La spesa della Germania per la difesa dovrebbe raggiungere l'1,22% del PIL entro il 2017. Il concetto di sicurezza va oltre quello di difesa, monisce il ministro degli esteri tedesco. Penso che abbiamo bisogno di riflettere su un paio di aspetti, a cominciare dal fatto che la sicurezza dell'Europa non può essere garantita solo dando soldi alla difesa. La maggior parte delle guerre e l'attuale crisi dei rifugiati che ci troviamo ad affrontare non possono essere risolti, stanziando più soldi per l'equipaggiamento, ma per proteggere le persone dalla fame, dalla povertà e dalla guerra. Il dibattito resta aperto in Germania dove le forze politiche si sono divise. Gli estoni intanto hanno deciso di spendere il 2,2% del loro PIL per la difesa nella 2017, preoccupati per l'offensiva della Russia in Ucraina.